Siamo qui stasera al Premio Amato Lamberto 2017, la cooperativa Lazzarella è premiata per il lavoro sociale. Come ha accolto questo premio? Vabbè, è stato, oltre ad essere un olore, un riconoscimento veramente, è stato uno degli anni più duri che abbiamo avuto in cooperativa quest'anno. Una serie di situazioni sono venute a creare, quindi questo premio è stato veramente una botta di energia, di carica per affrontare tutte le sfide future. Siamo veramente contenti di essere premiati stasera. Che valore ha nel lavoro sociale in particolare la responsabilità sociale? È assolutamente fondamentale, altrimenti non faremo queste cose, faremo un'impresa più semplice. Fare un'impresa in carcere non è facile, se non ci fosse appunto questo elemento, questa carica, non sarebbe, diciamo, fattibile. Quindi è fondamentale per fare responsabilità sociale. Progetti attuali e futuri della cooperativa, cosa state lavorando adesso, se ci sono delle novità nel programma, nel suo peccantiero? Guarda, novità ce ne sono tantissime, però io sono napoletana e scaramantica, quindi facciamo che ci rivediamo, vi tengo un po' in sospanso, ma a tempo un paio di mesi avrete le nostre notizie, verremo fuori dal carcere, ecco, vi lascio solamente queste informazioni. Grazie. Grazie.